Ciao a tutti ragazzi, daremo e... Edoardo! Edoardo! Com'è volare? Eh, bello, bello! Edoardo è la prima volta che vola, eh! Prima volta! Io avevo saputo che il figlio, Simone, mi ha detto andiamo sull'Arestino, andiamo sull'Arestino, ma dove? Non lo vedi? Ok! Adesso facciamo un po' di guadagliare Facciamo un po' di controvento qui Tanta gente che vola, eh! Sì! Senti, le palesi come girano su aria Sì! Stiamo con sottovento, cioè stiamo dietro alla direzione del vento Nel nord è stato destro E qui siamo sottovento, come scavalchiamo qui Vedi? Allora abbiamo una termica del sottovento che ci tira su Ok! Quindi scavalchiamo qui Vedi? Iniziamo a salire tipo a nastretto Sì! 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 Così va bene, no? Sì! 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 C'è un cervo Eh? C'è un cervo Dove? Lì! No, no no No, no, no No! No, no no Ma hai detto un cervo? Un cervo no! No no Dove il cervo? perché era solitaria non pensavo ci fossero mucche solitarie così si si qui considera che sono mucche che stanno in alpeggio le lasciano qua poi le vengono a controllare ma naturalmente stanno qui un po' se qui c'è termica ammazza che non usciria non si usare più c'è il motorino che c'è il motorino c'avevo il motorino si sta a scendere un po' di carno l'ero con l'ultima deriva il momento da mai bene 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 vai ma arriva no? arriva? si si questo qui non è vero Ciao Senti la scia come c'ha... Sì Sbalsato In realtà è la scia dell'aria sporca che hai preso Sì 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 Noi siamo molto pesanti Sì 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 Noi siamo molto pesanti Sì Sì Poi Lei pesa 50 kg Vediamo di prendere una termica Perché non c'è più termica Sì Siamo attaccati al bustone Quindi non ci siamo attaccati troppo Siamo qui dentro Uuuu Ancora Dai 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 Sì Sì Dai Tira su eh Poco Poco Un po' Non c'è Sì Sì, non so, non so, non so. Non riesci a mangiare l'altra plana? Andiamo qua lì là Andiamo qua lì là, l'altra, l'altra L'altra, l'altra, l'altra E' un bastardo maledetto, eh? Mi sei messo subito sopra, eh? Chi? Eh, Simone, Simone, vuoi dirmi che lui si piazza sopra? Mamma, mamma, vedrai come balla tua, eh? Vabbè, considera che in monoposto Io sono praticamente Molto più veloce a salire, eh? Sì? Eh, beh, mi stanno tipo dire, capito? Eh? Poi il peso, come qua, non posso senta la città Non posso uscire a salire qui Ehm, non posso sentire la città Vediamo che devo non basculare Guarda la termica c'è stato, fuori Grazie a tutti. 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 No, no. Stai in posto? Sono perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non avete le manovre acrobatiche però se vuoi ti faccio fare qualcosina. Come vuoi tu? Come vuoi tu? Come vuoi tu? No, no, per meno bene, sì, sì. Ok. Non è che soffri un'attivare, no? No, no, no. Cominciamo con dei movimenti pendolari, ok? Vai, vai. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. E' una super alta lena. E' una super alta lena. Chiudi le ginocchia. E' bellissimo. E' bellissimo. No, no. No, no. Bye-bye.